Tutti ragazzi sono sempre io Chiara del canale Luigi Cavalieri e finalmente ho riordinato la mia scrivania E' figo A me non mi piacciono gli Avengers, infatti questo l'ho di mio padre L'abbiamo regalato Vabbè comunque, e in questo video ovviamente vi devo far vedere dei nuovi disegni Ma dai Ok Sì, vedo Allora il primo è questo, che sarebbe la mucca, c'è pure scritto Perfetto E' la mucca, oddio E' la mucca che così, a caso Che ne è venuta, cioè bellissima, non so comunque che ho fatto Però ok, questo è l'amore Poi il proprio Yandere Simulator Chi non lo conosce, vedete C'è una che mi piace molto, Yandere Simulator Perché balla, cioè perché c'è Yandere che ammazza tutti Quindi Yandere mi piace molto Però mi piace un po', cioè mi piace che lei vuole conquistare questo Quindi è divertente Ho fatto questo disegno Di Yandere e Senpai Che lo fa così Eeeh Spiraggia E lui tipo Help E io, questa cosa io che dico Povero Senpai Quindi ok Ho scritto anche il Yandere Simulator E niente Cos'è il disegno Poi Ho sempre il Yandere Simulator Questo Senpai, questo Yandere Che lo bacia Perché Perché ne andava E qui ho scritto anche il Yandere Simulator Lui che pensa Ma che è pazza E lei scusa proprio Per cosa E questo è un po' il disegno Spero Mi piaccia E niente I disegni sono finiti Un'altra cosa che devo fare in questo video Cioè Che Allora Una mia schiz Cioè Katia Ponis Mi ha scritto Se Faccio vedere in questo video La mia reazione A Eeeh Un video Halloween Missing Halloween Ebbene Andiamo ora a vedere Ok Perché ho messo pausa Ma what Epic Fail Che carina sta roba Ok Carino sto video Ciao Perché Bene Spero che vi sia piaciuto E Ci vediamo al prossimo video Ciao